Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz siete in tanti collegati e spero che questo webinar possa piacervi innanzitutto ringrazio e saluto investing.com che ci dà la possibilità appunto di poter tenere questo webinar investing.com come sapete è uno dei siti più seguiti e visitati a livello nazionale invece il nostro sito è investire.biz che è un sito in crescita dove chiunque può scrivere i propri articoli commentarli e quindi trovare insomma tutte le proprie strategie di trading quindi tutti quanti insomma possono scrivere tutti possono commentare ma l'argomento di oggi è invece la stagionalità la stagionalità intesa come strumento per fare trading provate a pensare nelle ultime la settimana scorsa c'è stato un dato estremamente importante estremamente significativo che è stato il dato sui non fan payroll un dato che viene calcolato proprio sulla base di studi legati alla stagionalità tant'è vero che come sapete viene depurata la componente appunto dei nuovi occupati da quelli che sono i lavori stagionali agricoli infatti sono appunto gli occupati nel settore non agricolo e questo è estremamente importante a mio avviso perché ci fa capire quanto anche su dati estremamente importanti questa componente sia ricorrente la cosa bella è che la stagionalità come sapete viene è una cosa che troviamo anche in natura faccio proprio un preambolo di 5 minuti per spiegare queste cose che secondo me sono fondamentali perché se no non si capisce qual è il concetto provate a pensare in questo momento io stimo non sono davanti a voi non vi vedo però sono convinto che almeno l'80% di voi è in maglietta in questo momento perché perché ad agosto di norma fa caldo e questo è dovuto al fatto che l'anno e tutti gli anni si muovono allo stesso modo e in questa maniera nel senso che tutti gli anni ad agosto fa caldo e a dicembre tendenzialmente fa freddo poi che cosa può succedere può succedere che in determinate fasi dell'anno magari ad agosto ci siano delle belle giornate delle brutte giornate ci sia la pioggia mentre invece a dicembre ci siano delle giornate estremamente belle ecco quello che a noi interessa in questa fase è quello di individuare quelle che sono le tendenze se noi vediamo che ci è una tendenza sui mercati ad agosto per dire sui mercati o su una qualunque valuta una tendenza diciamo negativa possiamo sfruttare magari quel due giorni positivi appunto per magari posizionarci al ribasso o viceversa se c'è una tendenza positiva aspettare dei momenti interessanti per posizionarci al rialzo questo è un po' lo studio che si cerca di fare con la stagionalità è molto importante perché come sapete la tra l'altro rispondo già a qualche domanda che è arrivato se ci sarà la registrazione ci sarà tutto quindi non vi preoccupate mettetevi comodi che faremo proprio degli vedremo tutto quanto insieme con calma e appunto avrete la possibilità di poter rivedere questo webinar per rispondere a giacomo che dice quali sono le cause che portano ad avere un andamento ricorrente anno dopo anno così come nella natura nei fenomeni che vediamo in natura anche sui mercati finanziari ci sono delle dinamiche ti faccio un esempio può capitare appunto che ci sia un approvvigionamento di una determinata materia prima in un determinato periodo perché viene consumata più in quel determinato periodo dell'anno può esserci che magari i mercati pensate al detto più semplice della borsa selling may and go away no è un detto che quasi tutti conosciamo cosa vuol dire dice che tendenzialmente a maggio in realtà nella seconda metà di maggio i mercati di solito tendono ad avere un ritracciamento questo è dovuto al fatto che spesso ci sono i dividendi sul mercato italiano i dividendi sono pagati quasi tutti a maggio o comunque in quel periodo che va dalla metà di maggio all'inizio di giugno ci sono mille le congetture e le cose che si possono valutare fatto sta che comunque prevalentemente in quel periodo diciamo i mercati tendono a scendere mi dite che giacomo mi dice che non si sente provate a darmi un feedback sull'audio ah ok no no mi dite che gli altri sentono quindi anche giacomo adesso sente perfetto quindi noi che cosa ci siamo inventati ci siamo inventati un software che si chiama forecaster che fa gli studi appunto legati alla stagionalità per capire come funziona potete andare a vedervi sul sito forecaster.biz ve lo mando in chat così lo potete andare a vedere eccolo qua potete andare sul sito e farvi un'idea di come funziona ci sono tutta una serie di video ma quello che è importante appunto è come utilizzarlo e cercare di capire quali sono le cose che stanno sotto questo tipo di valutazione semplicemente non è un sistema miracoloso un software miracoloso il software forecaster prendiamo euro dollaro e poi andiamo a fare tutte le previsioni di fatto fa una cosa molto semplice prende euro dollaro supponiamo dal primo di maggio al primo di settembre ma non ci interessa l'orizzonte temporale in questo momento quello che ci interessa è quello che viene disegnato sul grafico ok questo è quello che è successo e questo è il presente lasciamo perdere quello che è il futuro e quello che è il passato concentriamoci su questo grafico che ci dà appunto questo tipo di indicazione ora quello che dobbiamo fare ovviamente dobbiamo studiare il passato vedere se effettivamente questa cosa funziona ma soprattutto e quindi vedere quella che è la proiezione per il futuro ma soprattutto capire come questi dati emergono cioè perché questo grafico viene disegnato in questo modo non c'è nessuna regola ve lo potete fare anche da soli utilizzando un foglio excel sono tantissimi calcoli e dovete comprare i dati motivo per il quale vi consigliamo di provare Forecaster così almeno lo testate tra l'altro se volete fare una prova potete mandare una mail a info che faccio investire.biz e ve lo facciamo provare vedete noi qui abbiamo preso un orizzonte temporale di 5 anni cosa vuol dire? vuol dire che questo sistema ha l'andamento dell'euro dollaro negli ultimi 5 anni da in tutto questo periodo quindi in questo periodo che va dal primo maggio al primo settembre mi raccomando se non è chiaro affermatemi avete tutti questi tipo di rilevazioni cioè sostanzialmente questo in azzurro è il 2011 nel 2011 euro dollaro quotava circa 1,45 eventi a settembre è vero se andate a prendere il grafico euro dollaro lo prendiamo euro usd questo per capire poi arriviamo a come si fanno le previsioni andiamo a prendere un grafico settimanale di euro dollaro e vediamo che nel 2011 a settembre quotava 45 qualcosa vedete agosto settembre siamo qua quindi semplicemente che cosa fa? prende i vari livelli questi vedete sono quelli un po' più recenti vedete questo qui è il 2015 questo qui che selezioniamo in questo momento i prezzi erano esattamente tra i livelli c'è stato diciamo questo piattume su questi livelli intorno all'area appunto di 1,12 1,11 insomma 2015 stava intorno ad area 1,13 quindi questo è quanto si fa una media matematica di questi valori e ci viene restituito questo grafico questo grafico ci dice che negli ultimi 5 anni valutando i dati negli ultimi 5 anni da il primo di maggio al primo di settembre euro dollaro è tendenzialmente sceso per poi fare un movimento al rialzo per poi scendere e questo è stato quello che è successo in realtà poi noi possiamo addirittura andare fino a 20 anni andare a vedere che cosa è successo e in 20 anni invece ci rendiamo conto di quello che è stato il movimento ok? questo è giusto per capire quello che è successo ovviamente poi dobbiamo contestualizzare andare a scegliere la history più corretta quindi il numero di anni più corretti e il periodo che intendiamo analizzare però questo sicuramente è molto molto importante vediamo se ci sono domande se è chiaro per tutti o se ci sono dei dubbi allora Vincenzo mi dice è come prendere la tendenza di un anno o più e riportarla in avanti no, è prendere esattamente quello che è successo nei 5, 7, 10, 15, 20 anni precedenti e vedere in quel determinato periodo di tempo che cosa è successo ma lo potete fare su tantissimi strumenti per esempio sul FutsiMib per dire il FutsiMib che cosa è successo sul FutsiMib nell'ultimo periodo? qui questo probabilmente è un errore e se andate sul time frame superiore lo risolvete no, probabilmente ci sono stati veramente dei picchi negativi in questi momenti mi sembra strano questo dopo lo andiamo a verificare però appunto anche sul FutsiMib potete andare a vedere quella che è la tendenza appunto in questo periodo e nello specifico per esempio potete valutare di prendere di fare la valutazione magari da oggi adesso siamo ad agosto quindi magari dal primo di agosto io consiglio sempre di prendere magari qualche giorno prima per andare a fare una valutazione corretta e avere appunto la linea del presente sul grafico una cosa importante vedete questo è il FutsiMib a 20 anni e ci dice che in questi momenti insomma ci sono stati dei picchi ma tendenzialmente la tendenza è abbastanza ribassista nei prossimi giorni potrebbe essere abbastanza ribassista vedete in questi giorni aveva individuato il rialzo guardate che cosa è successo prendiamo il grafico del FutsiMib giusto per prendere i grafici reali questo è il FutsiMib guardate che cosa è successo ma poi andiamo a fare proprio una valutazione vi chiedo anche se volete andare a fare delle valutazioni un po' più specifiche magari su determinati strumenti e così li andiamo a vedere insieme però discorso qual è? questo qui è il FutsiMib ad agosto che è questa questo è un settimanale quindi ovviamente non è corretto ecco dobbiamo prendere un grafico orario sostanzialmente il che prenda tutto il mese di agosto eccolo qua questo qui adesso è abbastanza allineato ci dava per l'inizio di agosto un movimento ribassista e così è stato e una ripartenza appunto in questa in questo inizio settimana e così sembra essere avvenuto dice il software Forecaster che dovremmo essere arrivati a un punto dal quale probabilmente potrebbero esserci dei ribassi tendenzialmente lievi ovviamente poi si può andare avanti si può mettere il 15 settembre per capire un pochettino qual è una tendenza di un po' più lungo respiro vedete mettendo il 15 settembre ci fa vedere che probabilmente sarà proprio a settembre quindi nell'ultima parte del grafico dove ci saranno i movimenti i ribassisti più importanti bene mi raccomando se ci sono domande se visto che è un modo di fare trading e di studiare i grafici sicuramente nuovo io non so quanti di voi conoscono questo software o quanti di voi si sono approcciati a questo tipo di tematiche però dico la mia è un modo completamente diverso di approcciarsi ai mercati finanziari e dico la verità ci sta dando degli ottimi risultati partiamo subito da un cross valutario visto che mi avete chiesto un post Brexit di fare una valutazione visto che molti non ci stanno capendo più niente di quello che sta succedendo sulla sterlina su sterlina dollaro allora io vi provo a mettere un grafico partendo dal dal 5 agosto quindi cerchiamo di andare abbastanza ai giorni nostri quindi andando di fare una previsione per il mese di agosto quindi dal 5 agosto al primo settembre eccola qua questa è una previsione sul 20 anni allora per rispondere a Giacomo che mi dice come faccio a selezionare la history migliore il consiglio che io do è di provare tutte le history e vedere se ce ne sono 2 o 3 simili vedete questo è il 15 anni vedete che sul 20 anni non cambia niente è uguale se andiamo sul 10 anni sempre di ribasso si sta parlando se andiamo su 7 anni ribasso più avanti però comunque sempre ribasso stiamo vedendo e il 5 anni invece è l'unico diciamo che dà un'analisi diversa ok? quindi questo è la cosa però tendenzialmente io dico sempre cercate di utilizzare un po' di anni nell'analisi quello che vediamo è che appunto la tendenza comunque di fondo è una tendenza prevalentemente ribassista quindi andiamo a provare a prendere il grafico di sterlina dollaro giusto per capire un pochettino che cosa abbiamo fatto GBP USD oltre a aver preso un po' di stop nel momento in cui ci siamo posizionati al al rialzo per cercare di prendere qualche qualche ritracciamento in realtà nei giorni scorsi o meglio ieri o questa notte ci siamo posizionati invece al ribasso con un ordine pendente posto in area 1.3087 chi ci segue sul sito e appunto chi insomma sicuramente troverà un articolo sulla sterlina Luciano ne parla vediamo dice long sterlina dollaro proprio fa vedere questa proiezione quindi vi esorto anche magari ad andare sul sito e a leggere chi utilizza questi strumenti da diverso tempo e proprio su sterlina dollaro anche Luca di scacciati il mio collega il 9 agosto ieri diceva appunto parlava di questa tendenza di quello che era successo e del segnale operativo che avevamo dato quindi questa è un po' l'indicazione quindi siamo appena entrati e l'idea è quella di tenere questa posizione perché siamo riusciti a sfruttare questo picco al rialzo che c'è stato adesso la stagionalità tendenzialmente ci dice che dovrebbe esserci un movimento al ribasso e che questo movimento al ribasso e quindi un nuovo minimo probabilmente per sterlina dollaro dovrebbe avvenire da qui fino all'inizio di settembre di conseguenza dobbiamo cercare di sfruttare questa cosa posizionandoci al ribasso ovviamente la domanda funziona sempre si guadagna sicuramente con questa cosa no non si guadagna sicuramente non funziona sempre però considerate che il bureau che fa i calcoli sulla stagionalità e tira fuori il dato sui non far payroll utilizza queste tecniche nei fondi di investimento la stagionalità è seguita e quindi è un modo per fare un trading un po' più consapevole vedete abbiamo inserito questo ordine pendente lo stop stretto e il target largo a quel punto valgono le regole di trading normale cioè le regole di trading che tutti quanti conosciamo quindi rapporti rischio rendimento favorevoli e tutto questo genere di cose però l'idea è che con questo strumento si riescano a cogliere delle belle opportunità insomma quindi questa è un po' l'idea la mia idea appunto a questo punto è che andando su un grafico orario si possa scorgere che ci sono dei minimi posti post Brexit e soprattutto post dichiarazioni di carne in seguito alla Brexit legative al taglio dei tassi di interesse che fanno pensare a un ritorno in area 1,28 e 60 1,28 e 50 almeno è un movimento importante che ci consente di fare dai livelli attuali un altro 100 150 pips quindi sicuramente è un ottimo modo per fare trading andiamo a vedere nello specifico per dire che cosa è successo magari su io ho preparato così giusto per farvelo vedere quello che è successo su Eurodollaro sul quale come sapete io sono rialzista di dollari quindi sono propendo per un'impostazione short Eurodollaro eppure il mio collega Luca che è più esperto di me appunto su queste tematiche legate alla stagionalità mi ha detto ma vatti a vedere che cosa è successo sul grafico Eurodollaro me con history a 5 anni da qui dal 1 maggio a oggi e vedrai che l'andamento è stato esattamente uguale con anche tanto di picco su questi livelli ve lo faccio vedere perché giustamente il Luca appunto mi ha ecco qua questo non serve a niente dunque no non riesco a farvelo vedere da qui però sostanzialmente lo prendiamo da qui quindi andiamo a prendere il grafico di Eurodollaro per capire un pochettino come potrebbe comportarsi nel futuro poi detto questo questo è un sistema che a noi piace se andate a vedere sul nostro sito chi lo sta utilizzando è contentissimo quindi questo è il feedback che vi posso dare ovviamente poi ognuno deve fare le sue valutazioni però questo è un grafico andiamo a prendere un grafico giornaliero per vedere un pochettino come come si è mosso un pochettino il mercato del cross Eurodollaro andiamo a stringere proprio per sovrapporre le stesse date vedete siamo dal primo maggio al primo di settembre quindi dobbiamo allargare dal primo maggio quindi più o meno qui lo mettiamo leggermente più in qua quindi dal primo maggio questo è già il 4 maggio questo picco effettivamente c'è già stato questo picco poi in realtà lo devo stringere questo grafico perché perché la linea del presente è questa e quindi in realtà questo è quello che è successo e di fatto questo sistema ci serve per individuare un pochettino questo devo stringerlo ecco qua da maggio eccolo qua adesso siamo perfettamente allineati però guardate che cosa è successo mi raccomando se ci sono domande fermatemi c'è stato questo picco e questo picco lo abbiamo visto poi c'è stata questa discesa dei prezzi ed è esattamente questa discesa che vediamo qui poi un rimbalzo qui il forecaster addirittura ci dava tre massimi uno due tre in realtà ce ne sono stati soltanto due però ci sono stati questi due picchi poi una forte discesa successiva ed è esattamente quello che vediamo qui poi una fase sostanzialmente di lateralità che è questa che vediamo in questo momento con un picco arrivasso che corrisponde a questa data qua se poi utilizzerete il software andate a vedere esattamente sul livello sul quale siamo entrati quindi è il livello appunto sul quale siamo entrati perché abbiamo messo un ordine pendente poi siamo stati bravi fortunati tutto quello che volete voi però al momento abbiamo lo stop in leggermente in profitto quindi abbiamo portato a casa già un po' del profitto e aspettiamo che ci venga colpito il nostro target in area 1.12.50 che ci attendiamo sarà colpito intorno al metà 20 di di agosto più o meno e poi ovviamente non siamo dei farmacisti quindi non però appunto dovrebbe avvenire questa cosa insomma intorno al tra il 20 e il 22 di agosto insomma in quell'intorno qui questo è importante perché perché poi da lì partirebbe teoricamente un movimento al ribasso quindi dal livello di 1.12.50 più o meno sarebbe interessante e utile valutare di posizionarsi al ribasso su questo su questo strumento per cercare di sfruttare quella che potrebbe essere una stagionalità negativa a questo punto uno può dire sì va bene però io non è che posso fare trading guardando solo il forecaster giusto perché il forecaster ti aiuta per avere una idea di quella che è la stagionalità di quello che è successo negli anni precedenti poi se tu prendi il grafico giornaliero e dici che unendo prendiamo soltanto i corpi quelle che potrebbero essere delle trendline ribassiste ti rendi conto che probabilmente a 1.12.22 dovrebbe passarci guardate questo punto qua è il punto dove dovrebbe passare la trendline lo segniamo qua e cancelliamo appunto riprendiamo la cosa andiamo sopra e vedete è il 23 agosto è il 23 agosto e il livello è esattamente 1.12 no? quindi 1.12 1.12.50 poi ovviamente punto più punto meno non ci interessa perché a noi ci interessa poi andare a prendere il minimo successivo qua sotto a 1.9 quindi se noi facciamo tre figure che sono 300 pips se entriamo 20 pip meglio 20 pip peggio non ce ne frega niente noi ce ne frega di fare 300 pips ok? quindi secondo me 1.12.50 è un bel livello per shortare per andare a prendere quali potrebbero essere i nuovi minimi a favore di stagionalità tornando al concetto di stagionalità pensate a un agosto dove tendenzialmente avete due giorni di pioggia cavolo è probabile che il terzo giorno ci sarà il sole perché agosto se siete a tropea per dire io sono stato a tropea questo a luglio se trovo due giorni dove piove non li ho trovati per fortuna mi aspetto che il terzo giorno ci sarà bel tempo perché perché ad agosto a tropea c'è bel tempo quindi se la tendenza è quella cerchiamo di mettere dei pendenti leggermente distanti se ci colpisce il livello tanto bene se non ci colpisce quel livello pace non abbiamo fatto niente non abbiamo fatto trading non abbiamo perso i soldi se avremo invece individuato un livello interessante avremo fatto un bel trade qui guardate qui sul livello di 1.12.22 ci sono tutti quelli che vanno long sulle rotture quindi potrebbe esserci un bello spike e poi il mercato scende Giacomo mi chiede se dovrebbe funzionare bene sulle materie prime che sono più soggette a stagionalità ti dico la verità sì ma voglio che me lo diciate voi cioè cerchiamo di capire che cosa succede per esempio sul gold perché cosa succederà sul gold vediamo prendiamo una previsione che vada dal primo agosto quindi prendiamo una decina di giorni e andiamo sul gold vediamo cosa è successo sul gold queste sono informazioni disponibili non è che sono però mi raccomando questo sistema qua questo io ci tengo a dirlo e a segnalarlo a tutti cioè non stiamo parlando di della pozione magica della pozione segreta o di cose strane stiamo parlando esattamente di un prodotto sul quale noi facciamo degli studi di stagionalità poi giusti sbagliati eccetera eccetera non ci interessa quello che ci interessa è che ci dia delle indicazioni poi facciamo il nostro trading tra l'altro visto che ci ha collegato l'amico Stefano che ho visto che mi aveva commentato il trade sul platine e sul gold Stefano hai visto che sta funzionando lo spread sul platine e sul gold ma noi lo teniamo non ci fermiamo sul gold invece vi faccio vedere che il lotto del 8 che vuol dire due giorni fa alle 8.55 ci siamo posizionati al rialzo bene andiamo a capire che cosa è successo quindi andiamo a cercare proprio quello stesso strumento che è lo spot gold eccolo qua eccolo qui allora questo è quello che è successo questo è il nostro ordine al rialzo lo vedete qui adesso andiamo a vedere che cosa ci possiamo aspettare sui mercati allora andiamo a fare una bella sovrapposizione so che ci sono tutti quelli che seguono Marco Di Vita e Luca che fanno questo webinar sono molto più bravi di me nelle sovrapposizioni e di tutto il resto tra l'altro appunto se avete la possibilità di poterlo seguire andate seguitelo una volta perché è interessante allora questo è agosto allora questo è quello che dobbiamo stringere voglio stringere questo grafico per farvi vedere esattamente fino al presente che dove siamo adesso e dobbiamo valutare questa parte di grafico quindi questa parte qui devo mettere lo metto a va bene anche così allora cercate cerco di stringerlo così riusciamo a ad avere il periodo da da inizio agosto vedete da inizio agosto il sistema ci dava questi picchi e poi dei ritracciamenti in quest'area qua che per il forecaster doveva avvenire venerdì in realtà si è verificato lunedì lunedì è esattamente il giorno in cui ci siamo posizionati al rialzo venerdì ci sono stati questi picchi al ribasso noi ci interessava prendere il movimento rialzista e di fatto questo che ci dice il forecaster guardate questa scala ci dice che negli ultimi 5 anni negli ultimi 5 anni questo strumento in questa parte di mese cioè negli ultimi 20 giorni di agosto ha performato il 5% cavolo io mi metto long e aspetto e per il momento abbiamo fatto questo movimento qua ci troviamo qui c'è un piccolo ritracciamento quello di oggi onestamente non era previsto dal forecaster quindi ci sono delle opportunità anche per riposizionarsi al rialzo probabilmente sono questi ah no guardateli qua Wednesday e oggi lo dava questa mattina abbiamo sbagliato di qualche ora e adesso ci dà questa spinta rialzista allora l'influenza degli eventi politici cambiano non in base alla stagionalità certo però se per dire c'è un acquisto di gold pesante o c'è un consumo di petrolio maggiore in un determinato periodo dell'anno questo non cambia per via degli eventi politici che poi tendenzialmente creano rumore e si riassorbono pensate al caso sui non-farm payroll su euro-dollaro che appunto ci siamo posizionati a rialzo su euro-dollaro nonostante appunto un dato così positivo facesse pensare al posizionamento short su questo strumento per rispondere a Filippo si ottengono le stesse indicazioni anche analizzando altri history beh andate qui andate a vedere e lo vedete è tutta la luce del sole nel senso che entrando li trovate sette anni da rialzo dieci anni da rialzo quindici anni da rialzo in questo periodo dell'anno vent'anni da rialzo cioè in questo periodo il gold sale ed è così da vent'anni da vent'anni in questo periodo la performance è positiva del due e mezzo per cento poi io posso anche decidere di dire vabbè ma l'ha fatto per vent'anni non lo faccio più però la stagionalità è un concetto secondo me molto importante perché ci consente di poter valutare tutto alla luce di quello che è successo nel passato ma senza fare l'analisi perché quando si fa l'analisi tecnica uno prende il grafico e vede quello che è successo valutando tipo gli ultimi che so sul grafico orario valuta gli ultimi due mesi no? ok gli ultimi due o tre mesi guarda che cosa è successo sul grafico orario che è una cosa che non ha senso ma a prescindere da questo voi non sapete cosa è successo ad agosto a settembre a ottobre e un anno fa ad agosto il mercato saliva o scendeva e un anno fa a settembre il mercato saliva o è sceso euro dollaro sia apprezzato o meno questo è il punto ed è un modo secondo me per ottenere diciamo risultati migliori noi ci stiamo trovando bene poi ovviamente dipende da ognuno di voi valutare se è un tipo di trading che piace la cosa bella è che con questo strumento si riescono a prendere i trend e non i 10 pip cioè se voi fate scalping e andate a prendere i 10 pip questo non è lo strumento giusto questo serve per prendere i movimenti importanti cioè quei movimenti che appunto per esempio Audi Yen sul quale noi ci aspettiamo un movimento molto molto importante NZDUSD ci aspettiamo un movimento a ribasso molto importante lo stiamo lo stiamo aspettando non abbiamo dentro il pendente vabbè lo mettiamo a breve lo stiamo aspettando in area 072 quindi questo qui è uno strumento che si può tranquillamente tradare NZDUSD per dire un bello short non ce lo leva nessuno NZDUSD se andiamo a vedere quello che sta succedendo vedete siamo in una fase dove c'è stato un movimento a rialzo piuttosto importante quindi si vende bene su questi livelli si vendeva meglio magari qualche ora fa e se andiamo a vedere quello che è successo sul software forecaster andiamo a vederlo perché è ovviamente NZDUSD quello che ci interessa è che in questa fase ci si attende una fase ribassista ha senso cavolo se ha senso ha senso perché poi contestualizziamo probabilmente le politiche di Fed e la banca neozelandese saranno divergenti probabilmente la Fed alzerà i tassi non domani non dopo domani ma sicuramente lo farà prima della banca neozelandese la banca neozelandese probabilmente li taglierà quindi questo cross può essere indirizzato solo verso una direzione qual è? quella del ribasso e quindi a questo punto andiamo a vendere su dei livelli importanti andiamo a vendere in prossimità di quelli che sono stati massimi con dei possibili ritracciamenti in area 0.67 0.68 poi ovviamente lì è un fatto di voler approfondire nel senso che uno poi magari va su investire.biz tanto per dirne uno e si cerca nzd e vede chi e che cosa questo è contro aud contro nzd ma ne potete trovare quanti ne volete nzd usd insomma ci sono tutti i vari articoli con i vari valori delle indicazioni ecco ecco questo è interessante questo è dove siamo adesso 72 vedete qui l'amico Diego per dire ha individuato come livello di short il livello di 72 0.4 e secondo lui su quella che è lo studio che ha fatto lui sul software for a caster secondo lui dovrebbe esserci un movimento ribassista che potrebbe portare i livelli fino a 0.67 quindi 5 figure di ribasso la stagionalità è favorevole e il minimo dovrebbe avvenire secondo Diego secondo Diego appunto a metà 23 di settembre poi avviene il 21 e fa 4 figure e mezzo cara grazia avviene il 25 e fa 3 figure va bene uguale però voglio dire questo è interessante come cosa oh eccolo qua Stefano che mi scrive Stefano che è sempre molto molto furbo mi dà delle indicazioni che secondo me sono sono interessanti mi dice ma scusami ma allora potrebbe essere interessante un long euro nzd allora perché tu giustamente dici nzd si svaluta però Stefano non sono d'accordo con te perché se è vero che euro nzd dovrebbe andare verso l'alto e sono d'accordo con te che si muoverà verso l'alto c'è anche da dire una cosa e va bene come 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 operazione però c'è anche da dire una cosa cioè se tu credi nella forza del dollaro e magari tu non ci credi però io ci credo nella forza del dollaro nel lungo termine voglio essere in acquisto di dollari piuttosto che di euro quindi vendere nzd siamo tutti d'accordo e va bene cosa compriamo compriamo dollari o compriamo euro lì la scelta è soltanto vostra nel senso che secondo me è meglio averci in pancia i dollari rispetto agli euro però tu Stefano cosa ne pensi dimmi Stefano che a me interessa quello che è il tuo feedback vediamo che cosa che cosa mi dici a riguardo allora Giacomo nel frattempo mi chiede se posso motivare la mia visione long dollaro io sono rialzista di dollaro quindi short euro dollaro nel lungo termine perché sono convinto che comunque si andrà ad allargare il differenziale dei tassi e tendenzialmente arriveranno più acquisti sulla valuta americana piuttosto che su quella europea e quindi nel lungo termine io vedo un cross che vada sotto il livello di 1,08 quando Fed e BCE avranno deciso di smettere di mantenere il prezzo del cambio fisso intorno all'area di 1,10 che è quello che stiamo vedendo da diverso tempo se andate a vedere il grafico di euro dollaro vi andate a stringere dopo i movimenti che ci sono stati da un anno e mezzo questo cross si muove all'interno di questo range con una lateralità piuttosto spiccata e con un valore medio intorno al livello di 1,10 che è proprio il valore di equilibrio quindi questa è una classica politica delle banche centrali che cercano di bloccare i livelli su questo livello di equilibrio motivo per il quale appunto secondo noi si muove all'interno di questo range detto questo nel lungo termine secondo me questo non durerà e quindi andrà giù quando l'Europa magari sarà un attimino più in difficoltà bene questo non c'entra niente abbiamo fatto un po' di ovviamente ricordo già che ci siamo che dobbiamo ringraziare investing.com insomma che ci dà la possibilità di avere questi webinar completamente gratuiti e quindi per tutti il software che abbiamo usato è il software forecaster quindi mi raccomando provatelo scaricatelo vedete come come funziona rispondo a Vincenzo Vincenzo dice Vincenzo mi dice se appunto attendiamo i presunti punti di massimo i presunti punti di minimo ma secondo me devi andare a individuare quella che è una tendenza poi sulla base dell'analisi tecnica che non è che usi il forecaster e butti via tutto il resto sull'analisi tecnica dici cavolo però su questi livelli si potrebbe comprare perché? perché il trend è a rialzo e compro dopo un ritracciamento quindi in realtà e quindi secondo me è più è più interessante cioè poi l'analisi tecnica non è che la buttiamo via sì su un trend rialzista si compra sul momento sui picchi di minimo e si vende e si vende appunto sui picchi di massimo quindi si cerca di andare in direzione del trend questo trend per esempio che vedete in questo momento è senza dubbio il rialzo questo del gold che vedete almeno da inizio anno allora Marco mi chiede se questo strumento è disponibile sull'azionario al momento no abbiamo già inserito un sacco di strumenti insomma avete il petrolio avete il gold ne avete sono tutti questi gli strumenti disponibili c'è lo smi il nasdaq l'sp c'è tutto e quindi in realtà poi tra l'altro costano questi dati quindi in realtà la ci sono ci sono questi però per dire tanto per dirvi una sul crude oil se noi andiamo a cercare Riccardo non so se lo trovo qui tra gli utenti più attivi però se andate a cercare sul oil con questo strumento era stata fatta una previsione sia dal gruppo Forecaster Roma che dall'amico Riccardo adesso non so se lo trovo dove appunto individuava come target ecco vedete ha fatto questa bellissima previsione dove individuava il livello di 40 più o meno intorno alla metà di agosto insomma e l'aveva shortato molto prima i tempi livelli erano eravamo qua sui prezzi attuali questo è un articolo del 5 luglio quindi di oltre un mese fa quindi dove ci spiega appunto la history le cose sono tantissime le persone che lo utilizzano e vedete non mi stupisco più si trova una configurazione tecnica indici rimbalzano eccetera insomma guardate che ci sono tutte le cose allora quindi no sull'azionario non c'è e quindi non vi posso dare non vi posso dare queste indicazioni detto questo appunto dovrebbero esserci ulteriori ribassi sul crude bene allora io direi che abbiamo visto un sacco di cose spero che vi sia piaciuta questo studio della stagionalità attraverso appunto questo software se avete domande e curiosità mandate una mail a info ve la scrivo qua info at investire punto bits con tutte le vostre richieste così che le colleghe con il numero di telefono così le colleghe vi possono contattare e vi possono spiegare un pochettino come funziona nel dettaglio facciamo un'ultima previsione cos'è che volete vedere qual è un cross che vi interessa vediamo i primi che rispondono vediamo chi è attivo nel frattempo Stefano mi ha scritto che è difficile da spiegare in tre parole il discorso legato con il dollaro neozalandese ma venduto contro euro più inerzia e contro dollaro dovrebbe fare più più strada più pips allora vediamo un attimino no il real brasiliano non non ce l'abbiamo tra l'altro Ercole ti consiglio di andare a tradare strumenti estremamente più più semplici dollaro cioè più semplici più più liquidi dollaro yen ottimo allora facciamo una bella previsione sul dollaro yen facciamola da zero così capiamo tutti quanti per bene come si fa si prende il dollaro yen si prende dal primo agosto al primo di settembre quindi si prende un bel mesetto di previsione ok poi andiamo a calcolare sui vari history allora qua non capisco come mai c'è questa problematica andiamo su history superiore cosa che ho sbagliato allora ovviamente abbiamo un problema sul calcolo dell'orario va bene lo mettiamo daily quando c'è un problema Giacomo mi chiede perché uso sempre il time frame orario perché rimane più frastagliato ma non è un problema possiamo usare quello che vogliamo ok sul 10 anni ci dà prima un movimento al rialzo dovrebbe andare a toccare un massimo allora andiamo a prendere il grafico di dollaro yen usd jpy ok benissimo eccolo qua andiamo a prendere mi raccomando ci interessa soltanto la parte di agosto di questo grafico ok quindi dobbiamo vedere quello che potrebbe succedere ad agosto allora 15 anni non c'è un movimento netto c'è un movimento tendenzialmente ribassista anche sul 15 anni sul 20 anni però vedete che non è un bel movimento si è un movimento tendenzialmente ribassista vediamo come non va l'orario ecco qui lo vediamo è un movimento tendenzialmente ribassista vedete che le performance però sono modeste però diciamo tendenzialmente è un movimento ribassista dopo quello che è stato uno spike al rialzo andiamo a mettere il grafico orario eccolo qua andiamo a accavallare quello che è la nostra linea del presente eccolo qua questo è esattamente un accavallamento corretto vedete che parte dal primo di agosto va a fare questo picco qua effettivamente lo va a fare e poi inizia il ritracciamento vedete questo che vedete sul grafico anche se è leggermente sfalsato è esattamente quello che questo è il grafico dal primo di agosto a oggi ok con questo piccolo ritracciamento ma sostanzialmente sui livelli di inizio agosto no? dai prossimi giorni potrebbe partire un ribasso modesto quindi insomma ci dà vere indicazioni quindi a questo punto cosa si fa? ci mettiamo short vediamo chi dice sì chi dice no forza usatele queste no poi altri molto probabile cosa fareste voi adesso? cioè adesso cosa si fa? la tendenza è ribassista ok allora a parte che questo qui è un cross particolare perché secondo me ci saranno delle indicazioni da parte della banca centrale quindi in questo preciso momento è pericoloso trovare euro yen dollaro yen però Giacomo e allora Ercole dice una cosa interessante dice allora io cambierei indice visto che la percentuale è una esaltante bravo Ercole soprattutto perché è un cross molto pericoloso Giacomo dice aspetta il ritracciamento per entrare meglio bravissimi guardate noi abbiamo una vendita al limite a 101.79 questo è un pendente abbiamo individuato un livello interessante lo aspettiamo tra 50 pip per metterci short stop 100 pip target sui minimi precedenti lo vedete questa è la nostra operatività aspettiamo un ritracciamento come dice Giacomo arriva qua stop stretto target qua sapete lavorando così che abbiamo un rapporto di 1 a 3 vedete che quest'area è 3 volte questa se andiamo a target il 25% delle volte quindi una volta su 4 chiudiamo a pari ok se invece andiamo a target più di una volta su 4 cioè una volta su 3 a fine anno siamo profittevoli non ci sono questa è matematica non è che vogliamo vendere assolutamente qualcosa vogliamo spiegare un modo di fare trading un po' diverso da quello che vi propongono magari altre persone ma chiave di lettura diversa poi se secondo voi il livello che abbiamo individuato noi posto in quest'area qua un 101.79 è una boiata perché volete mettervi su un altro livello beh fatelo a noi non cambia niente quello che io vedo nel breve termine è che qui abbiamo questi livelli abbiamo delle rotture via via più basse quindi probabilmente dei tracciamenti potranno avvenire in quest'area che può essere tra qua e qua nel breve se andiamo a tracciare delle altre trendline che seguono i minimi probabilmente appunto i livelli che abbiamo che abbiamo segnato insomma il nostro livello di ingresso non è poi così male bene questo giusto per per darvi qualche qualche spunto come posizionare gli stop loss guarda ci sono diversi modi per posizionare gli stop loss Vincenzo io ne consiglio alcuni generalmente un modo per non sbagliare se lavoriamo per dire su un grafico giornaliero è andare a selezionare per esempio la TR verage true range eccolo qua e andare a fare per esempio due volte la TR no? magari sul grafico giornaliero se il nostro time frame è giornaliero così la TR aumenta e quindi appunto per per avere un'idea il modo migliore secondo me è cercare di trovare un livello di target interessante soddisfacente in questo caso l'abbiamo trovato intorno all'area di 100 e quindi calcolare un terzo dello stop ci sono mille modi per calcolare lo stop loss l'idea è che comunque se il nostro livello di stop non è almeno tre volte distante al nostro livello cioè il nostro livello di target non è almeno distante tre volte dal nostro livello di stop vuol dire che il trade non ha senso come per esempio i long su wall sp500 oggi non hanno senso ma non hanno senso non perché io non mi voglio mettere long di sp500 anche se non mi voglio mettere long di sp500 però la verità è che se un mercato è salito così tanto io che target posso avere se voglio mettere uno stop a 2150 questo diciamo questa è analisi diciamo tecnica di base analisi secondo me più che altro del rischio se voglio mettere uno stop a 2140 sotto i minimi precedenti 2145 vado long a 2180 più o meno vuol dire che ho 35 punti di stop vuol dire che devo fare 105 punti di profitto cioè vuol dire che mi aspetto l'SP500 105 punti più in alto quindi vuol dire quasi a 2300 questo è probabile nessuno lo esclude ma a me questo trade non mi piace perché è uno stop che probabilmente verrà colpito e un target molto difficile da raggiungere quindi secondo me è una boiata come trade piuttosto aspetto un ritracciamento oppure faccio un'altra cosa avete un milione di strumenti da tradare poi guardate quanti ce ne sono sul forecaster bene io devo concludere insomma questo questo webinar spero che vi sia piaciuto spero che le tematiche della stagionalità vi abbiano interessato vi abbiano entusiasmato insomma spero che vi abbia dato qualche spunto lo short su GDPUSD lo short su 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 NZDUSD insomma un po' di spunti spero di averveli dati venite sul nostro sito investire.biz troverete tantissimi articoli appunto legati appunto a questi studi alla stagionalità e ai livelli ovviamente continuate a seguire anche investing.com ci mancherebbe altro per quanto mi riguarda io vi saluto vi ringrazio per la registrazione dovrete richiedere a investing.com ma sicuramente appunto abbiamo la registrazione grazie a voi per aver partecipato e ci aggiorniamo o su investire.biz o alla prossima scriveteci a info chiocciola investire.biz buona giornata e buon trading a tutti a tutti